L'arresto di Pierluigi Tancredi ha scatenato molte reazioni in città. A partire dall'alterco tra l'ex vicesindaco Roberto Riga e il sindaco Massimo Cialente, l'uno accusa l'altro, Cialente attribuisce a Riga la responsabilità politica della scelta di Tancredi per avere una delega alla ricostruzione del doposisma, Riga minaccia Querele al primo cittadino. Per arrivare poi alle reazioni dei cittadini aquilani, che male avevano digerito sin dall'inizio, il tentativo di Cialente stesso di assegnare a Tancredi una piccola delega alla ricostruzione del doposisma. Tra i contrari c'era anche l'assessore comunale della ricostruzione attuale, Pietro Di Stefano, allora consigliere comunale. Io credo che nella politica ci debbano essere le opportune differenze. I miei avversari politici sono avversari non nemici, però la politica si fonda anche su questo, sul fatto, è episodio in sé, insomma non voglio ripercorrere quei tempi. Mi limito soltanto a dire che purtroppo l'Aquila surge alle cronache nazionali ancora per un fatto non bello, che magari risale a sei anni fa. E in quei tempi io non ero assessore, lo sono diventato... Lo mandò lei l'SMS al sindaco? No, no, io non mandai nessun'SMS perché ero consigliere comunale, quindi quello che avevo da dire avevo anche il luogo per dirlo e lo dissi. Era mio dovere, difficilmente mi sottraggo quando è il momento di dire delle cose. E però, insomma, devo dire che i dipendenti comunali che sono coinvolti non sono coinvolti per corruzione, diciamolo, sono coinvolti per abuso d'ufficio, avranno tempo per chiarirlo. Ormai si dibatte molto sulla portata dell'abuso d'ufficio. Non voglio sminuire, ma non voglio nemmeno allarmare.